In questi ultimi due giorni ho ricevuto tantissime attestazioni di stima e incoraggiamento da parte di tantissimi tifosi, quelli veri, quelli con il vero cuore bianco-rosso, che mi hanno spronato a non mollare, anche chiedendomi cosa potessero fare loro per aiutarmi. Sono stato contattato anche da imprenditori e istituzioni che hanno capito il mio appello e mostrato considerazioni per quanto ho finora costruito e fiducia in quello che ancora potremmo regalare alla nostra città. Naturalmente ho ricevuto anche attacche e critiche, ma per fortuna provengono dalla solita minoranza becera, il cui modus operanti negli anni non cambia e non cambierà mai. Accetto le critiche, perché da esse si possono trarre sempre spunti di riflessione, ma stigmatizzo con forza le modalità becere con cui opera una certa parte di tifosi, ripeto sempre la solita, sempre la solita. Perché gli attacchi personali, le offese e le prese in giro sono solo uno sterile esercizio di personalità non abituati a confrontarsi con correttezza e lealtà. Ieri sera ho deciso di iscrivere la nostra squadra al campionato di Serie C. Voglio continuare a regalare un sogno ai nostri tifosi e voglio essere fiducioso che quanto ho bozzato in questi giorni in termini di aiuto alla società possa tradursi in realtà. Torno a ribadire che il mio chiedere supporto deriva solo ed esclusivamente dalla consapevolezza di aver ricostruito una società sana, sottolineo sana, e per cui sono state gettate le basi solide per una crescita a lungo termine e non vorrei mai che questo progetto potesse andare in sofferenza. Grazie a tutti.